questo è un paio da fare 900 giro arriva a 600 è difficile o non è? no, ha fatto 600, capito la roba esce è quasi giusto va bene, Carlo è lì, è lì, Carlo bravo, Ale grande grande, Carlo va bene, Carlo buono, buono buono, Carlo che? un portiere, tutto un dito di filo buono 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 va bene, va bene va bene, Carlo va bene, Carlo va bene, Carlo bravo 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 bravo, Carlo grande oh vai guarda guarda bello chi 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 non lo faccio si tocca la gamba se mi tocca la gamba però lo tira sempre tu ti sei in piedi tu? si ti rompo la pausa ciao felix in pausa va bene 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 bocca boia aspetta che ci può ah guarda che ci può non ci può male non ci può male ma suona il telefono stai all'albergo con il campanino eh ah ma vede che questo quest'anno lo usava anche lui ma vede che la usava la gillina quest'anno dai eh felix dai filo ande felix ah 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 Vieni Carlo, vieni, vieni, stai lì, stai lì 10 Brava le tasche Brava le tasche Brava Bravo 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 Ma non fredde il dosso, fredde le mani E vai? E vai le tasche E vai le tasche E vai le tasche Ok Billy, dai un attimo Billy Bravo 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 Alex Io bo Sembra un penale Non c'era Se no la gioco la gente pesca Si forte Portiamocela in NDN Oh 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 Bravo Oh 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 Pagno Oh Oh C'è C'è Pagno C'è C'è Grazie a tutti.